Lo sportello del cittadino è oggi a Lama, Taranto, precisamente in via Mormore. Torniamo sul luogo del delitto perché già ripetutamente anni fa siamo stati qui per denunciare il fatto che questa zona, quest'area è diventata purtroppo una sede di discarica a cielo aperto, soprattutto di materiale di risulta. Vedete molti lavori nell'ambito dell'edilizia, purtroppo quando si terminano i lavori il materiale di risulta viene abbandonato in maniera vile e vergognosa proprio qui e abbiamo in effetti come le immagini espongono chiaramente una discarica a cielo aperto. Allora abbiamo un contrasto stridente tra una zona meravigliosa, una baia, un angolo, uso ripetutamente questa espressione, baciato da madre natura per quanto riguarda la costa, per quanto riguarda il sole, per quanto riguarda il mare, per quanto riguarda l'attrattiva turistica e poi abbiamo uno scempio che davvero deturpa il paesaggio, l'immagine. Vedere cumuli e cumuli di rifiuti abbandonati è davvero una situazione vergognosa anche perché poi ci sono anche dei resti appunto di amianto, di fibre di amianto con tutti i rischi annessi e connessi. Allora qui si tratta di un discorso di prevenire ma forse anche prima ancora che di prevenzione perché certamente le campagne educative servono ma occorrono le campagne anche sanzionatorie che devono vedere protagonisti le forze dell'ordine all'unisono e penso vigili urbani, penso guardia di finanza, carabinieri, polizia di Stato. Qui non stiamo parlando né di fascismo né di immagini da sindaco sceriffo né da regimi totalitari, nulla di tutto questo. Si tratta soltanto di rispettare l'ecosistema, rispettare il diritto dei cittadini a vivere in una zona appunto sana e non malsana. E allora le forze dell'ordine che sono preposte a questo visto che comunque si sa l'andazzo e allora a questo punto dei posti di blocco, degli appostamenti mirati in queste zone perché si sa che i tre ruote, che i camion vanno a scaricare il materiale di risulta, vanno a scaricare appunto Ethernet, vanno a scaricare materiale appunto di lavori di edilizia e allora a questo punto si beccano questi mascalzoni, questi farabutti che stuprano il territorio. Altro sistema potrebbe essere quello di creare delle belle telecamere nascoste che vanno a fotografare questi incivili. Dovrei usare termini più volgari ma mi limito a incivili. Questi fenomeni vanno stroncati, stroncati. La prevenzione e l'educazione serve però ripeto in questo caso serve il momento sanzionatorio perché poi quando becchi qualcuno e lo freghi con tanto di immagini, questo esempio, questo incivile, questa sanzione che subisce questo incivile serve di monito, è un monito per gli altri, per chi volesse emulare queste azioni appunto vergognose. Allora qui si tratta di fare un'azione sinergica tra tutte le forze dell'ordine. È un discorso di sicurezza pubblica, è un discorso di incolumità pubblica, è un discorso di rilancio del territorio e non è ammissibile che da anni e anni e da decenni una zona del genere che dovrebbe brillare solo per turismo sia diventata la pattumira di Taranto. E allora per cortesia controlli mirati e sanzioni drastiche. Chi sbaglia paga. Qui non è questione ora qualche scienziato di turno e incomincerà a dire dittatura, fascismo, lega. A me non me ne frega niente. Io sono contro ogni tipo di dittatura sia di destra sia di sinistra. Condanno il comunismo, le dittature comuniste come condanno le dittature di destra, le dittature fasciste. E quindi il mio è solamente un discorso di rispetto della legge, di rispetto di dignità del territorio. Esistono le regole, le regole devono essere applicate e ci sono i soggetti preposti a che gli atti di inciviltà vengano sanzionati. Tutto qui. Questo per quanto riguarda gli incivili, ma c'è un'altra realtà sempre qui a pochi metri. Vedete alle mie spalle un manufatto che è stato forse oltre dieci anni fa abbattuto, non sappiamo bene se per abusivismo o quant'altro, però non è ammissibile che un manufatto resti così abbattuto e tutti i tuffi il materiale così giaccia per decenni nel totale abbandono. Allora a questo punto va rimossa tutta l'area, va rimosso completamente il manufatto, va bonificato e va resa la zona fruibile per la collettività. Lo ripetiamo, non si può avere un mare, una zona splendida e poi un manufatto che sembra Bagdad sotto i bombardamenti.